Gli ordini su come gestire il traffico di droga partivano anche dal carcere di Gazzi durante il periodo di detenzione a Messina di Francesco Contimica, ritenuto il capo del gruppo criminale con base a Tortorici, che i carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello hanno smantellato alle prime ore di questa mattina. 22 le ordinanze messe dalla procura di patti nell'ambito dell'operazione affari di famiglia, 10 le persone trasferite in carcere, 9 ai domiciliari, 3 i destinatari di obblighi di polizia giudiziaria. Secondo quanto accertato dall'indagine, avviata nel 2011 proprio nel periodo di detenzione di Francesco Contimica, figlio del killer Sebastiano Geller Gastola, nipote del boss Sebastiano Bontempo, anche egli condannato al carcere a vita, l'associazione riconducibile alla famiglia mafiosa dei batanesi di Tortorici attraverso un'articolata organizzazione spacciava droga nei comuni di Rocca di Caprileone, Capodorlando, Galatima Mertino, cocaina, ascisce e marijuana acquistati nel quartiere Librino di Catania ed immesse sul territorio anche grazie al ruolo di trasmissione delle direttive provenienti dalla cella della madre di Francesco Contimica, Luisa Bontempo e dello zio Antonino Contimica, oltre che dei fratelli Alessandro e Mirco Talamo. Tra gli uomini che gestivano il traffico sul territorio, Michele Bontempo Ventre, Salvatore Valentino Conti Bellocchi, Francesco Anastasi, Maurizio Arcodia, Sebastiano Galati Massaro, Giuseppe Barba Giovanni, l'intervento dei carabinieri ha smantellato la capillare organizzazione e l'inchiesta promette ulteriori sviluppi. Grazie. Grazie.